Qui ci troviamo nel Museo d'Arte, l'evento che ho curato vuole dire che il tatuaggio è arte contemporanea e le istituzioni italiane hanno supportato questo, e quindi siamo riusciti a fare un momento storico per il mondo del tatuaggio. L'arte per me è l'efforto di imitare una harmonia perfettamente ben equilibrata, come la natura. L'arte per me è la mia vita. Per me è l'arte per me è la forma di esprirsi, è la forma di terapetica, per vivere bene, per sentire bene, per essere liberi. E come ho detto, mi piace questo, quando si diceva, hai una cosa per fare, l'arte. Per me è molto difficile da definire e che qualcuno potrebbe interpretare così diversamente, come per l'amore. L'amore, 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 l'amore. L'amore, l'amore, l'amore. e provo solo in X-ray dettagli che non puoi vedere con un uomo. è molto bene, perché queste tatovierci sono in un giocatore tra il giocatore e il giocatore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La filosofia dell'evento è che noi abbiamo portato artisti che lavorano con pittura e scultura. Nell'arte contemporanea si può lavorare su qualsiasi supporto. Quando utilizziamo la pelle, se viene fatto da un artista riconosciuto, il tatuaggio è diventato contemporaneo. Penso che il tatuaggio è sempre in una persona, per noi. Penso che è qualcosa che abbiamo portato con l'umanità. Penso che il tatuaggio è diventato contemporaneo. Penso che il tatuaggio è diventato con l'umanità. Penso che è un canvassato che non si può durare centrii. È un canvassato che può essere in un museo dopo mille anni. che non si può essere un canvassato con l'umanità. Penso che abbiamo portato un canvassato. Penso che per sempre può essere parte della storia. Per sempre può essere quello che abbiamo portato per il futuro. Penso che prima di essere un canvassato con l'umanità. Ventre la mia prima volta con l'usenza di Kunst è stata qui in Romstadt. Perché quando sono ori, 13 anni, quando i amici amici, ho ieri amici e i musei. Grazie a tutti.